Vorrei avere davvero il dono dell'ubiquità per poter essere presente ovunque, magari la giornata non fosse di 24 ore ma fosse più lunga, perché sono tante, tantissime le segnalazioni che ricevo e voglio dare con tutto me stesso risposte, però chiaramente nei limiti del possibile, perché ovviamente non posso essere ovunque. E allora, come detto, mi fa molto piacere che voi mi mandiate, mi inviate anche a mezzo WhatsApp video, foto, per segnalare le criticità presenti in città. In questi giorni, anzi, proprio due giorni fa, abbiamo avuto notizia del fatto che l'amministrazione Melucci ha confermato come presidente del CDA di Chima Ambiente Amio, Gian Piero Mancarelli, e ha detto che si stanno ottenendo risultati e dobbiamo procedere a andare avanti nel segno della continuità. Pensate un po', una città che è ridotta ad una merda, perché avete visto come è ridotta Taranto a merda, traboccante di rifiuti ovunque, centro e periferie, e l'amministrazione ha detto, bene, evidentemente dobbiamo continuare su questa linea. Voglio farvi vedere, proprio usando le immagini che voi mi avete inviato, qual è la situazione rifiuti in alcune zone della città. Questo è l'1%, lo 0,5% di tutto lo schifo totale che ammorba la città di Taranto. Partiamo dalla città vecchia e ci troviamo in Vicoporto, all'altezza di Via Duomo e Vicoporto, una situazione paurosa. Guardate, i sacchetti non vengono raccolti, quindi i raccoglitori non vengono svuotati e chiaramente questo comporta il proliferare di ratti e di insetti. Guardate il topo morto che si trova proprio nel borgo antico di Taranto, nel cuore della città vecchia di Taranto. I rifiuti, ripeto, non vengono raccolti e non venendo svuotati i cassonetti, non venendo svuotati i raccoglitori, questi sono i risultati. Gli animali si avvicinano anche alle buste, le rompono e chiaramente essendoci anche resti di cibo è immaginabile cosa accade. E ripeto, topi e ratti proliferano. Questa è la città vecchia, il biglietto da visita della città, quello che dovrebbe essere l'attrattiva per i turisti. L'isola madre ridotta a un porcile traboccante di rifiuti e ci spostiamo dalla città vecchia ad un'altra zona periferica. Così assalti sto andando in base a quelle che sono le segnalazioni che voi ci avete dato. Situazione analoga, anche qui raccoglitori di rifiuti, di sacchetti non svuotati, siamo appunto a San Vito. Altra situazione scabrosa, anche qui ripeto la stessa cosa e quindi anche qui proliferare di insetti, proliferare di topi, sporcizia diffusa. Una situazione ripeto identica, ma potremmo andare oltre. E altri cittadini mi hanno mandato delle zone di tramontone. Qui ovviamente parlando di queste immagini relative a tramontone vediamo la inciviltà assoluta di chi evidentemente ha trasformato, intende, ha trasformato e continua a voler trasformare le vie cittadine in discariche. Come vedete c'è di tutto di più mobili, viene abbandonato l'impossibile, l'impensabile materiale di risulta e quant'altro. Allora certamente, lo ripeto per l'ennesima volta, bisogna spezzare le mani in senso metaforico a queste persone. E come? Attraverso i pattugliamenti della zona, l'azione sinergica di vigili urbani con altre forze dell'ordine, attraverso il sistema delle videocamere, attraverso i vigili in borghese. E questo però ciò non toglie che la zona deve essere ripulita, perché non è possibile che per pochi incivili poi a dover subire in eterno questo porcile debbano essere tutti i cittadini. L'amministrazione comunale, Chima Ambiente, Amiu, quando interviene a rimuovere queste schifezze? E qui non è che sì, ci sono gli incivili e gli incivili hanno combinato di tutto di più. E cosa dobbiamo fare? Dobbiamo tenerci vita naturale durante il porcile, anzi dobbiamo far sì che il porcile aumenti perché poi si sommano discariche su discariche. E per concludere questo spaccato, assalti, anpassan che sto facendo in base alle vostre segnalazioni, siamo a Piazza Madonna delle Grazie, vicinanze di Piazza Madonna delle Grazie. Guardate i marciapiedi come sono sporchi, non vengono puliti da giorni e giorni, da settimane. Allora qui non venitemi a parlare di inciviltà del cittadino, perché un'amministrazione comunale, non dico tutti i giorni, ma in quella via almeno un giorno sì, un giorno no, bisognerebbe passare a pulire. Come si fa in altre vie cittadine, in poche vie cittadine. Ma qui, come vedete dalle immagini, c'è, ripeto, un accumularsi, un proliferare di rifiuti, proprio per il fatto che evidentemente le squadre che dovrebbero provvedere alla pulizia di Chima Ambiente Amiu non so per quale disposizione, non hanno ordine, non hanno ricevuto disposizione di passare qui. Perché sono giorni e giorni che, ripeto, le vie non vengono pulite. Bene, mi gratto la testa perché qui a lungomare, nonostante sia lungomare, evidentemente disinfestazione non ce n'è, ma basti vedere tutto il porcile, l'erbaccia che cresce selvaggia con tutta la commistione di rifiuti e quindi gli insetti toccano la testa. Beh, ecco, vi ho voluto far vedere così uno spaccato. Io poi non sono al 100% per via di una frattura al tallone che mi fa zoppicare, però con la stampella andiamo ugualmente avanti, giro la città. E il vostro contributo di immagini, di foto, di video sono assolutamente preziosi. Mandatemeli, potete chiamarmi, il mio numero è 339-240-4240, lo vedete in sovrimpressione. Ecco, mandatemi tranquillamente immagini e cercheremo di sollecitare l'assoluta inerzia dell'amministrazione. Il cittadino paga le tasse, pretende i servizi, pretende una città pulita e non un porcile, visto che stiamo parlando di una Tari che è tra le più alte in Italia. Questa è l'amministrazione Melucci, l'amministrazione del nulla cosmico.